E' una delle partite di cartello della settima giornata di campionato, Juve Stabia-Vibonese è una di quelle gare da non perdere. Si ritroveranno di fronte due formazioni dal morale e dal cammino diametralmente opposto, uno dei migliori attacchi contro una delle peggiori difese, una sconfitta, quattro vittorie consecutive ed un pari per le Vespe, una X, una vittoria e 4K per i Monteleonesi. Basterebbe questo per capire che tipo di gara potrebbe andare in scena al Menti. E' sempre difficile portare via punti, l'ultima sconfitta stabile a Casalinga risale addirittura al maggio scorso, ma chi si aspetta di vedere una Vibonese arrintanata nella propria tre quarti, a caccia magari di un pareggio che tra l'altro in questo tipo di situazione potrebbe stare anche benissimo, probabilmente si ricrederà dopo il fischio d'inizio, come contro il Foggia, come contro il Matera, verosimilmente Massimo Costantino non snaturerà la sua squadra. Peccato che tra le fila calabre non ci sia uno come Daniele Liotti, leader a Castellammare oggi, ma nato e cresciuto a Vibbo, è di Pizzo, e lui il giocatore in più delle Vespe, centrocampista dalla spiccata propensione offensiva dai lanci illuminanti. Clamoroso averlo perso di vista dalle nostre parti, se la Vibonese vorrà colpire la Juve Stabia dovrà farlo nella prima frazione di gioco quando i gialloblu quasi sempre subiscono almeno un gol. Alessio e buon passo per la CNews24.